Degrado, incuria, cattivo stato di conservazione dei manufatti e presenza di erbacce presso alcuni cimiteri del comune di Arezzo. Sono tante le segnalazioni arrivate in questi giorni alla pagina Facebook Arezzo nel cuore contro i cialtroni. Lo rivela la consigliera comunale Mary Stella Cornacchini di Forza Italia. Sono state così documentate gravi situazioni che mettono in evidenza la mancanza di rispetto dei luoghi sacri di culto e della memoria dei defunti. Molti loculi e tombe si presentano in stati di abbandono, alcune cappelle private versano in condizioni precarie di manutenzione e numerose sepolture a terra sono caratterizzate dalla presenza di erba alta, piante, cespuglie, piccole alberature che in alcuni casi costituiscono anche un ostacolo per il passaggio tra le varie tombe e gli spazi circostanti. Un colpo d'occhio a niente affatto decoroso e che svilisce il riguardo che sarebbe dovuto ai cari estinti. Abbiamo immediatamente inoltrato queste rimostranze al presidente di molti servizi Luca Mendola, ha spiegato la Cornacchini, il quale ci ha fornito una pronta risposta spiegando che gli eredi concessionari hanno il dovere di provvedere alla cura ordinaria della tomba, mentre grava sul comune solo la manutenzione straordinaria legata ai lavori più rilevanti dal rifacimento delle coperture all'intonaco. I concessionari e i successori devono quindi farsi carico per tutto il tempo della concessione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, sicurezza e igiene. Quindi con grande disponibilità, prosegue Meristella Cornacchini, pur facendoci presente che non è compito di molti servizi, il presidente ha assegnato ai propri dipendenti il compito di rimuovere il degrado delle aree segnalate con particolare riferimento al cimitero principale cittadino e a quello di Santa Firmina. Ringraziamo il presidente Amendola per la sensibilità dimostrata, aggiunge il consigliere comunale Angelo Rossi, ma siamo consapevoli che non sempre sono possibili. Interventi di questo tipo, il cui costo a causa delle negligenze dei singoli ricade sull'intera collettività.